Una vetrina importante per la nostra regione, Pineto ospiterà dall'8 a 10 giugno gli internazionali d'Italia di mountain bike, una grande occasione a livello turistico e anche sportivo, Assessore. Esattamente così, si inserisce nel contesto di un programma, quello del 2018, ricco di eventi nazionali e internazionali che hanno portato lo sport e lo sport della regione Bruzzo alla ribalta su scenari davvero significativi. Questa è la volta della mountain bike, la volta di una città molto bella come Pineto che ospita al proprio interno, alla propria municipalità, al proprio territorio, parchi, riserve e bellezze che ancora una volta possono promuovere la nostra regione e la regione è stata vicina. Ha ovviamente, come negli altri casi, dato un contributo importante anche di risorse economiche ma soprattutto ha messo nel calendario nel 2018 tutta una serie di eventi toccando tutte le discipline sportive e legando felicemente sport, turismo, promozione del territorio e in qualche modo sponsorizzazione della propria comunità regionale. Cosa vedremo dall'8 al 10 giugno? A livello nazionale ci saranno tutti più forti, tutti i team più importanti. Saremo all'interno di un parco sopra Pineto dove siamo riusciti a tirar fuori un percorso importante che si avvicina tantissimo alle prove che si fanno all'estero e quindi anche qui in Italia stiamo avendo abbastanza successo per quanto riguarda il percorso. La particolarità è quella di svolgere questa manifestazione, questa prova a due passi dal mare. Sì, questa per loro è la prima volta. Infatti è venuto Keci Bauer che sarebbe il cammino italiano dei professionisti, è venuto a provare il percorso. Quando ha visto dove era tutto quanto la location è rimasta a bocca aperta perché noi siamo abituati a stare insomma in montagna. Noi in Abruzzo abbiamo quattro parchi, non è detto che in futuro non si possa, perché il nostro obiettivo, il nostro progetto è quello di portare un orse categoria oppure addirittura una coppa del mondo dove andremo a fare all'interno dei quattro parchi.